Bene, buon pomeriggio, mi chiamo Marco Piatoli, sono un narratore del FAI, che è un'associazione che è dedita alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. Noi siamo del FAI di Pieve di Cento e abbiamo come territorio su cui operiamo, territorio che va da Via Galliera fino al Modenese, quindi che prende i comuni che partano da Castelmaggiore e Anzola nella parte bassa fino ad arrivare a Galliera e Crevalcore. Noi come attività principale abbiamo quella di fare due giornate importanti, che sono quelle di primavera e quelle d'autunno, dove apriamo centinaia di siti che normalmente non sono visibili, ma come FAI di Pieve di Cento ci siamo dati l'impegno di cercare di aprire il più possibile una serie di strutture, di pregio che ci sono nel nostro territorio e che normalmente non possiamo vedere. Noi abbiamo fatto di recente, nel mese di dicembre, abbiamo fatto l'apertura a Trebo di Reno, adesso stiamo facendo quindi l'apertura a Crevalcore e questa è un po' la missione che ci siamo dati, davanti quando siete entrati c'era il nostro banchetto con cui vi abbiamo fatto vedere un po' quelle che sono le nostre attività e le offerte che vengono date vengono tutte messe a disposizione per la tutela dei beni culturali, in particolar modo la tutela di quei beni che sono gestiti direttamente dal FAI e che altrimenti sarebbero dei beni abbandonati. Qui abbiamo l'opportunità di vedere le tavole del Bertuzzi, che normalmente sono nella canonica di San Silvestro e è un'occasione molto importante, però prima di iniziare a raccontare le opere d'arti che sono qui esposte, scusatemi, vediamo un po' di inquadrare quello che è successo e per quale motivo ci sono queste opere qui a Crevalcore. Partiamo dalla famiglia Caprara. La famiglia Caprara è un'importantissima famiglia senatoriale bolognese che operava fin dal XIII secolo. Arriviamo all'inizio del Settecento in cui la famiglia Caprara ha come ultimo discendente Carlo Caprara che ha una figlia, Maria Vittoria, e quindi c'è la possibilità che la famiglia Caprara vada in estinzione. Nel XIII, se non sbaglio, Maria Vittoria Caprara si sposa con il cugino Francesco Montecuccoli, al quale viene imposto il fatto che la famiglia Caprara era una famiglia importantissima senatoriale, una fra le più importanti di Bologna e fra le più ricche, basta pensare che la prefettura di Bologna è Palazzo Caprara. A Bologna ci sono i prati di Caprara. Qui aveva una serie di terreni che facevano capo alla Villa dei Ronchi. Come dicevo, nel 1723 Maria Vittoria si sposa con Francesco Montecuccoli, che è suo cugino. E da questo fatto sappiamo che il 6 settembre 1674 i due coniugi si spostano per venire a passare il loro tempo nei loro possedimenti crevalcoresi, come facevano spesso, come si andava nelle delizie di campagna, e il conte e il senatore decise di andare a fare un'ispezione nelle proprie proprietà che a quel tempo venivano principalmente utilizzate per la coltivazione del bacco da seta e come risaie. Arrivato nei pressi delle risaie di San Martini, la carrozza ha un incidente e il conte cade negli acquitrini delle risaie rischiando la vita, ma per fortuna la prontezza del cocchiere lo tira in salvo, lo mette in sicurezza e dopodiché, una volta ritornato alle cure amorevoli della moglie, i due coniugi che rimangono molto impressionati da questo evento decidono di costruire un edificio relisoso come ex voto per grazia ricevuta. Immediatamente si mettono in opera, chiedono l'autorizzazione all'abate di Nonantola che aveva la giuristruzione su questo territorio e già nell'ottobre del 1764, quindi un mese dopo agli eventi, viene posta la prima pietra. Possiamo andare avanti, che così intanto facciamo vedere alcune... Qui abbiamo appunto il castello dei Ronchi, che è poco, come si può vedere, San Matteo e la villa. Da qui era partito il senatore Francesco per andare a vedere i suoi territori e alla risale di San Martino era precipitato. Possiamo andare oltre. Allora, come dicevo, subito vengono poste le prime pietre in ottobre e nel 1765 l'esterno è terminato. Come potete vedere è un'opera molto sobria, è stata realizzata da Petronio Fancelli, che è un pittore bolognese, quadraturista e ornatista, del quale non si conoscono altre opere murarie. Cioè il Fancelli è molto famoso come pittore di quadrature, cioè di quella che è nel periodo la più importante produzione pittorica bolognese, perché la quadratura è quello che ha dato veramente lustro alla pittura bolognese ed era ricercata da tutte le corti. A Palazzo Pitti, faccio per dire, ci sono le quadrature dei pittori bolognesi, perché erano quelle opere che facevano diventare gli ambienti sembrare decisamente più grandi, più lussuosi, perché c'erano finte architetture dipinte. Il Fancelli fa un'opera particolarmente sobria, in ottemperanza a quelli che sono gli insegnamenti del proprio maestro, maurotesi. Quindi noi possiamo vedere che la rotonda, che è una rotonda del diametro di 9 metri, è semplicemente una rotonda pietra vista, caratterizzata solamente dalle paraste che gli danno un po' di movimento, che sono quelle colonne che potete vedere, con un piccolo tetto a cono, una lanterna e un cupolino, con una finestra, con una grande finestra, che dà luce poi alla chiesa. Possiamo andare avanti. Qui vediamo che c'è la targa, che appunto ci conferma che nel 1765 i lavori di costruzione dell'esterno erano terminati. Ancora avanti, grazie. Ecco, qui ci troviamo all'interno della rotonda. La rotonda continua a essere molto tranquilla, molto semplice. Anche qui, come possiamo vedere, ci sono solamente le paraste che dividono, che delimitano uno spazio, sormontate da una piccola modonatura di stile toscano, ma anche questo è molto semplice. Noi l'unica cosa che effettivamente dà ricchezza e opulenza sono i disegni che vengono portati. Siamo di fronte a un decoro bellissimo, in cui ci sono fiori, volute, foglie, ricchissimamente, con un utilizzo molto ricco dell'oro, per cui dà molta lucentezza, e faceva una grande impressione per quello che riguardava le persone che andavano a vedere la rotonda e che erano quelle del contado qui di Crevalacore, quindi persone molto semplici che trovavano questa piccola bomboniera, una struttura di grande fantasia. Se andiamo avanti con le foto, qui potete vedere, qui ci sono questi pieni e questi voti, in realtà ci sono dei parallelepipedi che fanno sì che ci siano delle parti sporgenti e delle parti rientranti, le parti che continuano rientranti producono una croce greca, quindi con i bracci esattamente uguali. Lì possiamo vedere che c'è questo fregio dipinto che sostiene il cupolino del tettacono, molto elegante, e non vengono praticamente utilizzati stucchi, se non per quello che riguarda, come invece succedeva nel barocco di metà del Settecento, che era ormai rococò, e quindi particolarmente vivace e sovrabbondante di elementi. Invece qui ci sono solo questi piccoli stucchi che circondano i tondi e il coronamento della tela che riguarda la palla d'altare. Possiamo andare avanti? Grazie. Questa invece è la cupola, come si vede, che è caratterizzata, anche questa, da un'architettura Trump-Toyle con dei finti cassettoni all'interno dei quali ci sono dei putti. lassù in alto si vede il cupolino ed è l'unico punto da cui si prende la luce, a parte la porta di entrata. Possiamo proseguire? Grazie. Eccoci qua, qui siamo di fronte alla prima tela. Per quello che riguarda la decorazione non abbiamo nessuna informazione, cioè noi non sappiamo chi è stato l'autore della decorazione che è avvenuta. Possiamo pensare che sia un fidato collaboratore di Nicola Bertuzzi che è invece l'autore delle tele. Il ciclo che andiamo a illustrare è un ciclo molto interessante innanzitutto per la sua unitarietà. È realizzato tutto dallo stesso autore e per la stragrande maggioranza riguarda lo stesso tema che è la liturgia mariana. Quindi noi abbiamo la pala d'altare e cinque degli ovali più grandi che riguardano la vita della Vergine e due ovali più piccoli che rappresentano due santi San Martino e San Francesco e sopra la porta di entrata c'è un altro vale che è posto invece che in verticale in orizzontale dove ci sono San Francesco da Paola e San Luigi Gonzaga. La tela principale è appunto la nascita della Vergine a cui la rotonda è dedicata ed è stata come vi ho detto prima realizzata da Nicola Bertuzzi anzi Nicola Tommaso Bertuzzi è un pittore originario di Ancona che però tanto che ad Ancona si chiamerebbe Bertucci ma visto l'abitudine dei bolognesi di trasformare la C in Z a Bologna è diventato Nicola Bertuzzi. È un pittore che giunge come dicevo prima precocissimamente a Bologna entra subito nell'Accademia Clementina ed ha come maestro Vittorio Maria Bigari che al tempo era l'esponente più importante del barocchetto bolognese insieme a Francesco Monti. Il Bertuzzi prende subito dal Bigari le sue due caratteristiche principali che era la pennellata rapida e brillante vivace che rimarranno per tutta la carriera del Bertuzzi il suo stilema la sua caratteristica principale arricchita poi da altre esperienze che lui farà ma non dimenticherà mai l'alunato con il Bigari. Il Bertuzzi è un autore che fa quadri per chiese quindi tele per chiese e al tempo stesso moltissimi lavori che riguardano invece l'abbellimento delle ville nobiliari in particolar modo lui lavora come figurinista cioè lavora in collaborazione con un altro pittore il quale fa o la quadratura oppure dipinge il paesaggio che viene arricchito da Bertuzzi con le figure dei personaggi questa è un'attività che svolge alla perfezione insieme ai più importanti quadraturisti bolognesi che sono Carlo Lodi Vincenzo Martinelli Prospero Pesci tutti pittori molto importanti molto richiesti e che abbelliscano la stragrande maggioranza dei palazzi bolognesi Bologna ha una caratteristica quella che non ha un proprio governo perché è governata dalla Chiesa quindi la nobiltà che vive di Ozzi ha come principale attività quello dell'abbellimento e dell'arricchimento dei propri palazzi oltre che la gestione in maniera imprenditoriale dei loro terreni quindi nel 1735 il Bertuzzi ancora molto giovane perché si pensa sia nato fra il 1710 e il 1715 quindi potrebbe essere anche solamente ventenne vince il premio Marsiglia Altrovandi dell'Accademia Clementina grazie a un lavoro a carboncino che rappresenta la cacciata di Adam e Dema del Paradiso subito inizia a lavorare anche per in maniera autonoma i primi lavori conosciuti sono a Medicina nella Chiesa del Carmine dove farà una serie di tele sulla vita del Beato Franco insieme anche qui a un ornatista e poi produrrà delle tele per le chiese di Bologna e per quelle marchigiane perché comunque Bertuzzi che è soprannominato l'Anconitano mantiene importanti contatti nella propria città di nascita dove c'è un nipote o un cugino che gli curano la sua attività e che propongono alla committenza marchigiana le opere del parente fra il 1746 e il 1751 già influenzato dalla pittura veneziana perché il suo maestro che era il Bigari era stato a lavorare insieme a Giovanni Battista Tiepolo a Milano nella fresca di alcuni palazzi che purtroppo sono andati distrutti durante la seconda guerra mondiale e quindi attraverso le esperienze del maestro Bigari e di Francesco Monti si era particolarmente avvicinato alla pittura veneta fra l'altro Francesco Monti voi potete andarlo se siete di Crevalcore ma comunque anche se siete qui vicino potete andarlo a ammirare perché la chiesa di San Martini nella pala alla destra dell'altare c'ha proprio un'opera di Francesco Monti che è una sacra famiglia con Sant'Anna San Gioacchino e il cugino per cui abbiamo una sacra famiglia i nonni e il cugino perché c'è anche San Giovannino molto molto bella e quindi si può vedere uno dei pittori che più ha influenzato le pennellate del Bertuzzi va a Venezia e quindi acquisisce può vedere di viso quello che è l'attività della pittura tardo barocco anzi rococò veneziana che era una delle più importanti nel periodo ne acquisisce una parte di caratteri in particolar modo la stesura del colore e in questa maniera riesce a avere una pennellata molto più brillante molto più vivace e anche più teatrale perché un'altra delle caratteristiche della pittura veneta era la teatralità nell'impostazione delle opere nel 1705 quindi metà degli anni 40 dal 46 fino al massimo al 51 perché nel 1751 il Bertuzzi rientra a Bologna e diventa docente dell'Accademia Clementina rimane docente dell'Accademia Clementina nel 1774 e eletto anche principe cioè per cui ha una delle cariche più prestigiose che vengono date dall'Accademia Clementina oltre al fatto che per altri anche per altri tre anni sarà viceprincipe quindi è un pittore a Bologna riconosciuto apprezzato e valorizzato in questo periodo principalmente lavora come vi ho detto prima come figurinista quindi in collaborazione con altri con altri pittori farà anche una collaborazione con il Fancelli Petronio che è quello che ha progettato la rotonda perché se noi facciamo la scalinata di San Luca una delle opere è proprio realizzata da Fancelli e da per quello che riguarda l'ornato e da il Bertuzzi per le figure il Bertuzzi lavorerà appunto alla chiesa di San Luca e garantirà tele come dicevo prima del Bolognese nel Marchigiano e nel Contadum compreso quindi anche Crevalcore perché nel territorio di Crevalcore proprio con Ica Prara avrà un intenso rapporto che lo porterà a fare numerosi lavori una parte sono quegli fatti per la rotonda che andremo a osservare l'altra parte sono fatti invece per la chiesa di San Matteo dei Ronchi in special modo la via Crucis ma c'è anche una Sant'Agata c'è una serie di tele che fa quindi il territorio di di Crevalcore è particolarmente ricco di opere del Bertuzzi possiamo andare avanti questa è la prima tela che noi andiamo a vedere è la pala d'altare la pala d'altare che è appunto dedicata alla nascita della Vergine è una pala d'altare che permette visto allora innanzitutto è l'unica tela che c'è all'interno di questo ciclo di forma rettangolare mentre le altre sono tutti degli ovali è la tela di maggiore dimensione e quindi permette al Bertuzzi di fare un lavoro un pochino più complesso per cui come noi se noi vediamo rispetto alle altre tele ma però la presentazione al tempio poi ci smentirà comunque ha la possibilità di lavorare su più piani di affollare la tela di numerosi personaggi e quindi è un un lavoro decisamente più complesso rispetto agli altri che andremo a vedere la tela è caratterizzata da un'impostazione di tipo piramidale noi possiamo vedere che l'angelo su in alto che è l'angelo della grazia divina è il vertice che poi discende verso il basso diciamo piramidale perché comunque il quadro ha una sua profondità i personaggi principali sono la vergine sostenuta da l'ancella che tutto sommato questo personaggio anonimo è quasi il personaggio principale che c'è in questa tela è il più rilevante che è circondato da queste due servette queste due ancelle che portano il materiale che serve ad accudire un neonato quindi ci sono le fasce c'è l'acqua dall'altra parte invece ci sono due giovani in atteggiamento di preghiera sullo sfondo uniche persone che guardano l'angelo della grazia divina perché sono consapevoli di quello che è successo e quindi che è nata Maria e sono loro solo loro due guardano guardano l'angelo sono Sant'Anna e San Gioacchino che sono i genitori di Maria sono gli altri gli unici personaggi che hanno l'aureola e quindi sono facilmente riconoscibili come santi la Madonna appunto stesso è un punto molto importante perché è un punto da cui scaturisce sostanzialmente tutta la luce che illumina il quadro e quindi ci sta a significare che già è stata avvolta dalla grazia divina il pittore non si dimentica il pittore qui nella parte più bassa fa di fatto una scena di tipo familiare che potrebbe succedere in qualsiasi casa di quel periodo con un minimo di disponibilità economica con le persone che si dedicano all'accudimento del neonato con il fasciatoio nella parte bassa mentre la parte invece dei due genitori è un pochino più defilata in penombra e quindi noi stiamo di fronte a una costruzione che è anche su più piani e che quindi anche questa dà un certo movimento da profondità l'altra cosa molto interessante che c'è è il il fatto che tutta questa scena è posta su una predella come potete vedere giù in basso possiamo tornare un attimo indietro ancora ancora di più dove c'è l'immagine iniziale del ecco qua come potete vedere la predella la stessa predella che c'è dell'altare quindi questo qua viene utilizzato questo espediente per darci quasi la sensazione che l'avvenimento che noi stiamo andando a vedere sulla tela sia un avvenimento che è all'interno della chiesa e che quindi ci coinvolge in maniera più grande poi possiamo tornare avanti grazie ancora ecco il Bertuzzi era un pittore particolarmente rapido nella realizzazione dei suoi quadri ed è famoso tanto che il Pio quando farà il necrologio per la sua morte una delle caratterizzazioni che andrà a sottolineare è proprio quella di essere un pittore particolarmente veloce nell'esecuzione che ci ha lasciato una moltitudine di opere il Bertuzzi era molto veloce perché riutilizzava frequentemente delle cose che aveva già fatto le riadattava le risistemava ma aveva già i modelli che riprendeva questo gli permetteva oltre al fatto che era appunto oltre al fatto che lui lavorava pochissime sulle pali d'altari di grandi dimensioni era un pittore da cavalletto come vi ho detto prima e questo gli consentiva di fare una quantità incredibile di opere e riassemblava noi possiamo vedere questa è una nascita della Vergine sempre del Bertuzzi quella che vediamo dietro era nella Villa San Piera di San Lazzaro dei Conti Boschi tutti noi abbiamo una Madonna o un'immagine religiosa sopra il letto e il Conte Boschi aveva il Bertuzzi con la nascita della Vergine è la stessa struttura l'ha solamente ribaltata e ha cambiato la disposizione siamo passati da una disposizione verticale già da una disposizione orizzontale perché questa è del 1764 questa è del 1767 e 68 a una disposizione verticale questo comunque modifica in maniera forte poi comunque quello che avviene perché se noi andiamo a vedere l'opera che era la Villa San Piera e che adesso è nelle opere della fondazione della cassa di risparmio che ha comprato quasi tutte le opere di Villa San Piera qui abbiamo un andamento obliquo cioè le immagini il quadro è suddiviso in maniera obliquo attraverso le immagini mentre qui abbiamo una costruzione piramidale e poi appunto si è limitato all'inversione però noi possiamo vedere la Sant'Anna nel letto lì c'è la Sant'Anna nel letto la scena con le servette e con le ragazze adoranti è la stessa scena andiamo pure avanti ma il Bertuzzi non si limitava a rielaborare e riassemblare le sue cose andava anche a prendere e a elementi che già aveva fatto o il suo maestro o lui stesso noi possiamo vedere che questa è un'immacolata concezione di Vittorio Bigari che è nella chiesa che c'è a Porta San Donato e l'angelo che noi vediamo nella parte inferiore ha la stessa postura con il braccio dell'angelo che c'è in questa natività ma non solo io vi ho detto che il Bertuzzi nel 1735 ha vinto il premio Marsiglia Aldrovandi e l'aveva vinto con un angelo con la cacciata di Adamadeva da parte dell'angelo l'angelo della cacciata di Adamadeva è questo angelo qua è praticamente identico al posto della mano posta sul petto ha la spada infiammata con cui caccia Adamadeva quindi lui giustamente riutilizza dei suoi lavori e questo gli permette perché comunque già ha le proporzioni sa come possano essere fatte le cose ha l'opportunità di andare molto rapido d'altro canto il Bigari aveva questa caratteristica di una pennellata rapida e brillante che è la stessa che c'ha il Bertuzzi ed è la stessa che utilizzavano anche i pittori veneti continuiamo ad andare avanti grazie qui è l'immacolata concezione e questa invece l'immacolata concezione io non utilizzo lo sviluppo che c'è all'interno della rotonda di come sono poste ma utilizzo la cronologia diciamo così della ritù mariana non per le date delle feste ma di come si suppone che siano gli avvenimenti questi due sono i due avvenimenti concomitanti perché questa è l'immacolata concezione e questa è la nascita di Maria noi sappiamo che il dogma dell'immacolata concezione è un dogma che è stato codificato nel 1850 però già nel 1600 nel periodo barocco si era dopo la controriforma si era iniziato a ragionare moltissimo su quale dovevano essere le iconografie della vergine che era diventato uno dei personaggi più rappresentati e in questo caso siamo di fronte all'iconografia dell'immacolata concezione che è stata pensata da uno spagnolo Paceco del Rio che era pittore e al tempo stesso faceva parte dell'inquisizione e aveva stabilito quelle che dovevano essere le caratteristiche per rappresentare appunto la concezione senza peccato della Madonna il punto di riferimento principale è la fanciulla di sole dell'Apocalisse che è qui perfettamente rappresentata che ha alcuni caratteri che ci sono tutti che sono appunto il fatto che è una giovinetta al massimo 13-15 anni vestita di bianco con un mantello azzurro che sul capo che ha il capo circondato da 12 stelle e che è sostenuta da una da un crescente lunare che vediamo qua lì sotto a queste caratteristiche si aggiunge quasi sempre il fatto che ci sia il giglio e che lei calpesti il serpente tutti questi elementi sono rappresentati se noi torniamo indietro ancora grazie questa è la l'annunciazione del Bigari questa invece che vediamo qua sotto è l'annunciazione del Bertuzzi il maestro fa anche un'annunciazione che è più vicina a questo ma in questo caso qui è un'annunciazione in cui la Madonna ha un atteggiamento molto più solenne molto più statuario in cui sconfigge in maniera definitiva il serpente calpestandolo mentre la la Madonna del che possiamo andare avanti grazie la Madonna del Bertuzzi è una Madonna più da esercizio pittorico più elegante più più raffinata ha tutti questi elementi e la parte più interessante è il lavoro che il Bertuzzi fa per appunto confermare il fatto che questa sia la fanciulla di luce cioè la pennellate che vengono date quando verrete qui vicino dateci un occhio ci sono delle pennellate molto grasse molto materiche che sprigionano una grande quantità di di luce che 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 brilla e che dà questo senso gli elementi sono quelli appunto che dicevo prima le 12 stelle rappresentano le 12 tribù di di Israele o i 12 apostoli il il giglio rappresenta la purezza della vergine la luna rappresenta la castità della vergine perché già anche in antichità la luna era sempre riferita al fatto di essere casti perché era il simbolo di Diana che anche lei è vergine e che quindi è uno di quelle iconografie che si sono trasferite dall'antichità anche nell'iconografia cristiana la la vergine calpesta nella nell'Apocalisse dice che che calpesterà il drago qui invece calpesta in realtà il serpente satana che è quello del del peccato originale perché come possiamo vedere in bocca la mela il globo su cui è posta la vergine rappresenta appunto la totalità in cui la religione cattolica fa riferimento il prossimo il prossimo ecco prima di ecco qui proprio si vede assolutamente il il fatto che il Bertuzzi ha acquisito la tecnica e la scuola veneziana che è data proprio dal tipo di pennellata che lui va a dare e dalla ricerca di una pittura di grande luminosità che è la caratteristica principale del rococò veneziano arriviamo adesso alla presentazione della Vergine al Tempio la presentazione della Vergine al Tempio è un episodio della vita della Vergine che non si trova nei Vangeli si trova solamente nei protovangeli ci sono dei Vangeli addirittura dedicati alla Vergine oppure nella leggenda aurea normalmente è l'iconografia tradizionale è un'iconografia che prevede la Vergine che giunge attraverso la scalinata al Tempio seguita dai genitori Sant'Anna e San Gioacchino qui ovviamente visto le limitate dimensioni della tela che ha il Bertuzzi lo stratagemma è quello che è già dentro nonostante questo l'accoglienza viene fatta dal grande sacerdote che probabilmente è Zaccaria e bardato di tutti i suoi di tutti i suoi elementi che lo caratterizzano come sommo sacerdote compreso il pettorale che rappresentano le tribù di Israele la cosa che subito colpisce è il fatto che la Madonna in realtà dovrebbe essere presentata al Tempio all'età di tre anni mentre qui siamo di fronte a una ragazzetta che ci avrà dai 10 ai 13 anni ha la candela della purificazione alle sue spalle ci sono forse si vede meglio anche lassù che ci sono Sant'Anna e San Gioacchino con dei personaggi invece che danno della profondità in penombra in lontananza molto bello è questo personaggio che dà proprio il senso di aver appreso la scuola veneta qui cosa possiamo dire possiamo dire che questa è una tela particolarmente ben fatta l'utilizzo dello spazio è assolutamente perfetto e qui si vede come il Bertuzzi utilizza le conoscenze che ha acquisito a Bologna quindi la scuola bolognese che parte dal Carracci e arriva fino al suo maestro a Bigari e quindi ci sono tutta una serie di cose la dolcezza dei volti basta vedere la vergine la morbidezza dei movimenti la pittura bolognese è una pittura per quello che riguarda il periodo d'oro della pittura bolognese è una pittura di sentimenti e qui vengono tutti rappresentati basta guardare quelli che sono questi sguardi che ci sono fra il grande sacerdote e la vergine però sono declinati attraverso l'esperienza veneta e esce fuori il colorismo veneto e l'altra parte che esce fuori è la teatralità che era tipica della pittura veneta scusate vediamo come il grande sacerdote prende la scena con questa accoglienza molto molto vistosa per cui questi due aspetti qui si vedono perfettamente compendiati d'altro canto il Bertuzzi è stato scambiato lungamente per un pittore molte tele del Bertuzzi sono state considerate tele di pittori veneti in particolar modo di Giuseppe Nogari solamente nel 1982 un critico d'arte che Ruggeri fa un testo che si intitola proprio il falso veneziano in cui mette in evidenza come queste tele sono da essere assegnate al Bertuzzi e vengono tolte alla pittura veneta ma la pennellata che aveva queste caratteristiche caratterizzerà poi per sempre il Bertuzzi successivamente possiamo vedere possiamo andare avanti abbiamo l'annunciazione l'annunciazione è si trova solamente nel Vangelo di Luca però per la sua importanza da un punto di vista della dottrina è assolutamente una delle opere più rappresentate nella storia dell'arte e anche nel nostro caso il Bertuzzi si utilizza gli stilemi che sono classici dell'iconografia dell'annunciazione quindi abbiamo Maria l'angelo Gabriele e lo spirito santo in forma di colomba noi possiamo vedere che qui l'angelo Gabriele che anch'esso rappresentato secondo l'iconografia classica quindi vestito di bianco e con il giglio che rappresenta la purezza della Vergine arriva alle spalle della Vergine questo qui mentre nella parte superiore abbiamo lo spirito santo in forma di colomba che illumina di luce la Madonna che è il simbolo del concepimento lo stratagemma di utilizzare l'angelo che viene dalle spalle consente al pittore di far fare questa torsione alla Vergine perché la Vergine arrivandogli dalle spalle l'angelo è costretto a avvoltarsi per vederlo questo è uno stratagemma che notoriamente viene utilizzato per dare movimento alla tela qui siamo di fronte a una tela con pochi elementi per dare movimento si cerca di utilizzare quello che è i gesti che vengono fatti in verità probabilmente questa è la tela meno riuscita di tutte le opere perché comunque nonostante abbia fatto questa operazione i movimenti paiono sempre rigidi a terminare la tela c'è il Talamus Virginis che è letto che rappresenta il concepimento appunto da parte di Dio del Cristo e il libro dove c'è la profezia in cui si dice che verrà quella adesso ve la leggo perché non voglio dire una cosa non correttissima c'è la profezia di Isaia ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele che significa appunto Dio è con noi quindi questa è la l'iconografia proprio classica che viene realizzata dal Bertuzzi infine andiamo a vedere l'ultimo quadro che rappresenta la liturgia mariana il Bertuzzi non ha fatto tutta la storia cioè non ha rappresentato tutti i momenti della vita della Vergine ne ha scelti alcuni nel nostro caso cinque che sono avvenimenti molto significativi ma che vedono assoluta protagonista la Vergine perché ovviamente ci sono altri momenti fondamentali basta pensare all'attività del Cristo oppure alla visitazione ma in questi casi il protagonista non è la Vergine il protagonista è sempre Cristo qui sono stati fatti una scelta in cui viene messa in particolare evidenza tutte quelle cose che hanno caratterizzato la Vergine Maria qui siamo di fronte all'assunzione e anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'iconografia assolutamente classica quella stabilita ormai nel tempo abbiamo la Vergine che viene sollevata dagli angeli vestita con il vestito rosso il mantello azzurro le mani aperte che guarda verso il cielo questa è l'iconografia proprio proprio tipica il il Bertuzzi anche qui ha un a poco a poco spazio quindi nel tondo si limita solamente a quest'evento normalmente l'assunzione della Vergine che avviene nella presenza degli apostoli vede delle pale di grandi dimensioni in cui nella parte superiore c'è l'assunzione della Vergine nella parte inferiore c'è invece i dodici apostoli un esempio è la meravigliosa assunzione della Vergine che c'è nella collegiata di Pieve di Cento del Guidoreni qui lui quindi sintetizza ma però vuole lasciare alcune informazioni le informazioni che ci lascia è il sepolcro che quindi la tomba della Vergine è aperta il lenzuolo con cui è stata avvolta e i boccioli di rosa normalmente i boccioli di rosa sono sempre cioè la rosa è sempre associata alla Madonna ma in questo caso è associata in maniera particolare perché le rose già nell'antichità facevano parte del rito funerario quindi queste rose si trovano a fianco del sepolcro addirittura in molti casi sono proprio all'interno del sepolcro finisce con questo bel paesaggio che sfuma in lontananza che è un paesaggio montano qui c'è la montagna anche la montagna dovrebbe dare il senso di ascensione e quindi di innalzamento che ha la Vergine da un punto di vista tecnico il Bertuzzi ha una disposizione degli angeli e della Vergine in forma quasi spiraliforme che anche questo è un movimento che tende a andare verso l'alto l'altra cosa che possiamo vedere che si vedeva anche in altre tavole che abbiamo appena visto è che il Bertuzzi utilizza assolutamente la stessa iconografia che utilizza il Bigari nelle figure femminili le figure femminili del Bigari hanno questa caratteristica hanno questo bel volto rotondo non di grandi dimensioni con gli occhi piccoli e divaricati un nasino piccolo che normalmente guarda all'insù e una bocca piccola e corta queste sono caratteristiche che sono immancabilmente in tutte le madonne e nei volti femminili del Bigari e che vengono riprese dal Bertuzzi quasi sempre un marchio che gli rimane addosso fino alla fine della sua attività alle tele del ciclo mariano si aggiungono tre tele relative ai santi possiamo andare avanti a dei santi il primo è San Martino che è proprio all'interno di dove c'è la palla d'altare San Martino viene dipinto nell'evento più famoso quello classico che tutti conosciamo e che anche nei libri di scuola quando andavamo l'11 di novembre ce lo facevano leggere e che riguardava l'estate di San Martino è il momento in cui San Martino è di ronda trova un vecchio infreddolito e decidi con un atto di generosità di donargli metà del suo mantello questo tipo di iconografia è la più classica che abbiamo il Bertuzzi fa la stessa cosa ma in realtà il Bertuzzi utilizza della roba che ha già fatto se possiamo andare avanti con con le immagini questo qui è un quadro sempre del Bertuzzi che rappresenta un 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 episodio della giurisolemme liberata del tasso quindi non siamo più in ambito religioso siamo in ambito letterario ma se noi guardiamo di fatto ci sono gli stessi attori cioè stiamo stiamo siamo di fronte a una recita diversa ma gli attori sono i medesimi il San Martino qua è il cavaliere ed è vestito esattamente nella stessa maniera con lo stesso vestito con il con l'elmo che tiene in mano ma è lui la spada cioè lui il cavallo uno è bianco uno è baio ma ha lo stesso sguardo bamboleggiante un po' e il il cestaio che qui abbiamo è lo stesso è lo stesso volto del mendicante quindi non qui non riutilizza la l'episodio ma riutilizza gli attori e anche in questo caso questo gli permette di essere un pittore molto rapido e veloce questo è un quadro che è a Venezia in una collezione privata del quale purtroppo non riesco a dare un'adattazione perché l'adattazione che viene data è quella della vita dell'attività del Bertuzzi proseguiamo avanti con qui siamo all'altra tela che c'è nel sempre a fianco della pala d'altare è San Francesco che riceve le stimmati c'è il santo che prende per la stragrande maggioranza tutta la tela che è in estasi il cielo viene viene squarciato dal serafino con il Cristo che fa le stimmati a San Francesco questo quadro ha alcune particolarità il riempimento di questo quadro è dato dal fatto che da una parte viene messo Fratellia che ne scrive la storia della parte in basso alla destra c'è quasi una natura morta per cui ci sono le vottovaglie con le poche cose che aveva il santo per nutrirsi questo teschio con il libro delle preghiere e sullo sfondo una ci sono delle fronde qui come anche nel San Martino ma direi anche nell'ancella possiamo vedere anche quella vena caricaturale che c'ha il Bertuzzi nella realizzazione di alcuni personaggi e qui appunto Sant'Elia il Mendicante la piccola Servetta sono delle caratteristiche che sono abbastanza tipiche del Rococò bolognese che si ritrovano anche in altri pittori come il Milani o il Marchesi il Sansone che hanno cioè dove posso dire arricchiscono la loro la loro tavolozza anche di questi personaggi un pochino più caricaturali e divertenti da vedere l'ultima tela è la tela che è sopra la porta d'ingresso è una tela è l'unica tela ovale che si sviluppa in orizzontale anziché in verticale rappresentano due santi tipici esponenti della di quella che è l'idea della religione della controriforma quindi abbiamo un San Francesco da Paola dei Minimi e il Gesuita San Luigi Gonzaga in adorazione del del Sacro Cuore anche questa è una una pittura abbastanza tranquilla e tradizionale però devo dire che la mano con cui sono stati realizzati i due santi è molto bella e le pennellate che ad esempio ci sono per per letrine di San Luigi Gonzaga danno assolutamente quel senso di leggerezza e di luminosità che ha un un ricamo non mi viene il termine comunque con i forellini all'interno e quindi anche queste tutte tutte queste queste tele sono di grande sono veramente ben fatte di grande di grande interesse basta non ho terminato se avete qualche domanda da fare volentieri altrimenti potete sfruttare il tempo che rimane vediamo quanto è a poco per per vedere ancora i quadri e eventualmente per fare qualche foto senza usare il flash grazie 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 prego mi piacere grazie 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 a grazie a